Io non ho detto che ci potevamo preparare, tanto mi faccia fare i complimenti ai vostri giornalisti perché hanno fatto un servizio fatto bene e molto posato, che è una cosa che in questo momento secondo me paga, ovvero del dire guardate che il virus muta perché è nella sua natura di mutare come del resto mutano batteri, mutano protozoi, mutano funghi, il genoma purtroppo o per fortuna in alcuni casi è in continua evoluzione e mutazione. Quindi non è la prima e non sarà neanche l'ultima. La cosa che noi ci deve importare di più è se un virus che è mutato diventa maggiormente aggressivo cioè uccide di più, è in grado di attaccare peggio la cellula, è chiaro che questo ci deve preoccupare molto. Se il virus diventa più contagioso certamente non è piacevole, però guardi che è probabile che queste mutazioni ci fossero già, io dico anche nel nostro paese, perché quello che abbiamo visto con la seconda ondata, soprattutto per alcune città e regioni, guardi quello che è successo a Milano ma è molto probabile che ci fosse una circolazione anche di mutanti più facilmente diffusibili perché si è molto diffuso, molto di più di quanto si è diffuso nella prima ondata. Quindi io dico stiamo calmi, soprattutto dico che stiamo calmi perché questo annuncio che è arrivato dall'Inghilterra è coinciso con l'annuncio da parte dell'Europa e in particolare da parte dell'EMA del lancio del vaccino. Allora molte persone oggi sono scettiche, titubanti, dicono ma se il virus è mutato io non mi vaccino più perché questo vaccino potrebbe non funzionare. Invece quello che noi dobbiamo dire, e che la scienza deve dire, è che la struttura portante del virus che è la proteina Spike verso la quale si indirizza il vaccino rimane lei. Non è che è cambiata. E quindi non influisce, questa variante non influisce sull'efficacia del vaccino, giusto? Esatto, cioè noi abbiamo, è come avere una foto segnaletica, ci dicono che il nostro organismo deve produrre dei vaccini, degli anticorpi nei confronti di questa proteina. Nella realtà magari questa proteina potrà avere un neo o due brufoli, però noi in ogni caso è un po' come il nostro cellulare, quando ci riconosce la faccia nostra, anche se noi abbiamo un brufolo, o abbiamo una parte, il nostro corpo che non è la stessa, non riconosce ugualmente, così avviene per il... Cioè ci riconosce uguale. Allora però proviamo a riassumere perché vorrei che almeno 3-4 informazioni chiare arrivassero a casa, professor Bassetti. È più contagiosa questa variante? Questo lo possiamo dire? Allora guardi, anche questo è da provare perché per il momento non è un problema noi abbiamo un'informazione che arrivano dal governo inglese, non è una pubblicazione scientifica, se lei mi dicesse lo ha letto su una rivista internazionale, no, l'ho sentito dire... Aspetti perché noi poi abbiamo qualcuno che lo sta studiando e quindi magari chiediamo meglio anche a chi lo sta studiando già adesso, no? Però quello che possiamo escludere è che sia più letale, più pericoloso. Ecco, qualcuno oggi l'ha definito il super virus, no, non è un super virus, è sempre lo stesso virus che può passare più facilmente da una persona ad un'altra. Perfetto!